cosa c'ha? sento qualcosa alle spalle tipo? non lo so qualcosa che striscia no non mi brilla ti prego che striscia non mi piace cosa sta brillando che un piacere ciao via via corri 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 benvenuti in un nuovo video finalmente siamo tornati come vedete siamo all'ericabur e appena iniziato a piovere giusto per inaugurare questa nuova avventura ciao ragazzi ciao oggi facciamo la nostra prima notturna siamo un po emozionati speriamo in bene di non cagarci adesso sono le 8 e 20 minuti tra un po ragazzi diventerà buio e ci conviene però entrare per non bagnare l'attrezzatura perché se bagni la videocamera non funziona più volevi accennare qualcosa? ah sì mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like se sapete già che questo video vi piacerà e mi raccomando non vi perdete il prossimo video perché ci sarà una cosa interessante a dopo eccoci qua ragazzi stiamo registrando guarda 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 brillava non brilla più non lo so c'è qualcuno qui con noi? oh mi cago già addosso perfetto siamo tornati a trovarvi siete contenti di vederci? c'è qualcuno che vuole comunicare con noi che vorrebbe dirci qualcosa? hai visto? può accendere lo strumento lì in mano? lo sto facendo ok ok se faccio una sessione di spirit box mi rispondete? per il camisolo mi sa che era così ok aspetta un secondo cos'è quella cosa bianca lassù? ma è solo un pezzo è un pezzo di marmo o senza ormone? oltretutto vuole precisare che siamo soli 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 non c'è nessun altro appartello in due e bello è brillato non so se l'hai visto si è visto in camera? si si è visto ok quindi qualunque tipo di rumore che si sente non c'è qualcun altro appartello allora così iniziamo a fare la sessione di spirit box? si ok oh oh questo brilla questo non ci fosse un domani scusate ragazzi per l'inquadratura mi accendi mi accendi la 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 si mamma mia come mi brilla si io secondo me ma che devo fare? aspetta microfono giusto? non vedo una lanza aspetta se ti avvicini la videocamera scusate ragazzi guarda brilla che più che non domani veramente dimmi la luce ma sei stato tu? si si ok c'è qualcuno? cosa ha detto? sotto? bambini si cosa ci fanno dei bambini qui? hai detto veramente bambini? mi dice un nome tu o il tuo nome? mi dice un nome tu o il tuo nome? ci dobbiamo spostare? siete voi che fate brillare il K2 la stazione come l'hai messa? mi dice un nome tu o il tuo nome? noi non è M la stazione no non è M credo che è M volevo dire la velocità è il più veloce che può essere no chiaro qua brilla che più che non domani dobbiamo spostarci va bene se ci spostiamo no oddio mi da fastidio la luce? cosa ha detto? c'è qualcuno in questa stanza? madonna amore è sino al rosso è continuo c'è qualcuno in questa stanza? ok proviamo ad andare avanti fino al rosso di nuovo prova a spegnere spegno mamma mia fino al rosso io mi avvicino verso di te diventa rosso oddio Beppe c'è una voce non mi piace cosa? qualcosa è qua vicino a me te lo dico io c'è dei brividi anche io avvicinanti ti sei avvicinato a me? si che è qua vicino a me oddio non mi piace non mi piace chi sei? come ti chiami? ha detto in fondo sei là in fondo? è qua? cos'è che ha detto? ha la stessa voce? ci vedo oh si vedi dobbiamo andare avanti oh si io ho fatto beppe non dovrebbe fare così? no oddio 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 guardo 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 La luce? Ti dà fastidio la luce? Come spegnerla? Spengo? No, perché? Hai vizio? Cos'è stato? Cos'era? Guarda come brilla! Ma io non me la sento di spegne, vabbè! Guarda che brilla, che favore! Ci fa il brillo qua! Senti che si è messo di parlare? Mamma mia! Brilla con un cibo sulle mani! Cos'ha detto? Sì! Sei qui dentro? Cos'ha detto? Forse ho visto un Orox! Cos'ha detto? Mi spegno! Cosa? Stai registrando? Sì! Voglio che spegni quella roba all'onate! Oddio! Questo parla! Chi sei? Chi sei? Sono un orox! Qualcuno sarà il buio! Ma tu hai sentito una voce? L'ho sentita una voce? Gru parlano! Gru parlano! Gru parlano! Dom'è mia va! Siete qua vicino a me? Sì! Sei lì dentro? Mamma mia! No qua c'è una paura folle! Ma che trovo? Sto tremando con la clitina! Stai tremando! Sto tremando! Ha paura! Posso? Sì! Cosa ha detto? Io entro eh! Cosa ti ha detto? Guardate! Senta quel posto che mi fa paura! Cosa ha detto? Sta brillando! Scusate! Hai detto qualcosa? Guarda! Guardate! Ah! Mi mangiate! Amel! Senti! Scupo! Sponami! 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 Sapami! ti dà così più la luce? cosa dice? ora quello è molto più di 60 ore ok aspetta che lo spegno se capisco ok mamma mia brillata sono male oddio mi ha brillato ancora? eh? stai brillando ancora? ma cosa strana è che se lo metto vicino a te brillo la mia registratore ce l'ho io? no ce l'hai tu il registratore? no l'abbiamo lasciato in macchina? si bisogna andare per le curare capiamo il registratore torniamo ragazzi ciao a tutti